Non curanti della gente ancora in spiaggia, ieri pomeriggio intorno alle 18 una ventina di migranti sono sbarcati illegalmente a San Leone, principale località balneare di Agrigento. Nel bel pomeriggio di sole ancora estivo, i diversi bagnanti presenti in spiaggia hanno assistito increduli alla scena, riprendendola. Il video è stato poi diffuso oggi dall'Associazione Amar Amico. I migranti, verosimilmente di nazionalità tunisina, sono scesi dalla piccola imbarcazione in legno, addirittura salutando i presenti. Non appena hanno toccato terra, si sono subito dileguati tra la vegetazione e il vicino boschetto. Dopo circa mezz'ora, allertati dalle persone presenti in spiaggia, sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto, della Polizia e della Guardia di Finanza, che hanno presidiato il mare della zona e le strade limitrofe, alla ricerca dei giovani. Al momento, soltanto una decina sono stati fermati, degli altri nessuna traccia. Appare evidente che questo barchino di soli 5 metri, con non più di 20 clandestini a bordo, non può essere arrivato direttamente dalla costa africana, ma come ormai le crona che hanno dimostrato, sarà stato probabilmente accompagnato a poche miglia dalla costa da una barca madre, che poi li ha lasciati. Una tattica che ormai sembra consolidata e che al momento permette ai migranti di raggiungere senza molti ostacoli le coste siciliane, in primis quelle agrigentine. Decine di casi hanno interessato le spiagge dell'Interlande negli ultimi mesi, non solo nella più gettonata Lampedusa, anche tra Real Monte Siculiana, Ribera e Sciacca.